Gekigemu presenta Se lavoro su Gekigemu per decine di ore ogni settimana Allora non mi rimane molto tempo per il mio lavoro principale come freelance E poi a fine mese non ho abbastanza soldi per pagare le bollette oppure fare la spesa In pratica senza donazioni dovrei chiudere il progetto Gekigemu Se ci pensi i canali youtube più famosi ricevono soldi dalla pubblicità oppure dalle collaborazioni con le aziende Io invece lavoro su cose viste e lette da pochissime persone E quindi posso farlo solo con il supporto di altri appassionati Con le donazioni pago una parte delle spese che mi servono per vivere Ad esempio la corrente elettrica oppure le uova e la farina E se pensi che quello che ti racconto su Gekigemu sia abbastanza interessante e vale la pena continuare a farlo Allora ci sono diversi modi per aiutarmi Le donazioni più importanti sono quelle che ricevo su Patreon Perché sono un'entrata più o meno fissa ogni mese In pratica dalla pagina di Gekigemu su Patreon puoi iscriverti al progetto e donare quanto vuoi ogni mese Per ringraziarti di questo aiuto su Patreon ho messo tutti i libri di Gekigemu da scaricare in pdf Poi trovi l'invito per entrare nella chat di Gekigemu su Discord E ogni mese vedi tutti i video di Gekigemu in anteprima e scarichi gli mp3 da ascoltare come una podcast E poi ci sono anche un sacco di video bonus fatti apposta solo per chi sostiene il progetto su Patreon Naturalmente se cambi idea o hai qualche imprevisto puoi togliere l'iscrizione quando vuoi Un altro modo per aiutarmi è una donazione libera su Paypal Qui scegli tu quanto vuoi donarmi e lo fai una volta sola Per ringraziarti di questo aiuto ti mando via email tutti i libri di Gekigemu in pdf E anche l'invito per la chat di Gekigemu su Discord Nella descrizione qui sotto trovi l'indirizzo per il mio Paypal dove puoi fare la donazione Se non vuoi usare Paypal per la donazione puoi anche mandarmi un buono regalo su Amazon Anche qui scegli tu quanto vuoi regalarmi e lo fai una volta sola E per ringraziarti ti mando via email sempre tutti i libri di Gekigemu in pdf E l'invito per la chat su Discord Nella descrizione qui sotto trovi l'indirizzo mail a cui mandarmi il buono di Amazon Un altro modo per aiutare Gekigemu è comprare i libri che ho scritto Dove sono raccolte tutte le ricerche fatte per i video e i documentari Sono libri fisici su carta quindi contribuisci anche a salvare queste informazioni nel mondo reale Metti caso che YouTube mi cancella il canale per qualche motivo oppure esplode internet Trovi i libri di Gekigemu su Amazon e per ogni copia venduta ricevo circa 3 euro E tua casa ricevi libri da leggere oppure da regalare a qualcuno Se non mi sono dimenticato qualcosa questi dovrebbero essere tutti i modi con cui puoi aiutarmi Con le tue donazioni posso continuare il progetto Gekigemu E intanto aiuti anche tutte quelle altre persone che scoprono questi consigli e approfondimenti su YouTube Credo che in Italia ci siano molti altri giocatori o lettori interessati a queste cose Però a volte non lo sanno neanche loro visto che se ne parla così poco Se hai qualche domanda o vuoi aiutarmi in altri modi Scrivimi pure un messaggio qui sotto oppure mandami una mail Grazie per l'aiuto e a presto